Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12 dove si segnalano 6 km di code a tratti per lavori tra l'allacciamento con raccordo Lucca, Via Reggio e Massa in direzione Genova. In A1 in direzione Roma 4 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al km 21 e 300 della variante di Valico, tra il bivio variante di Valico La Quercia e Firenzuola. In direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci in A11 code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI code a tratti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita la strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!